Mister, domani è una partita più attesa probabilmente di questo campionato, anche per come si è messo questo campionato, prima contro la seconda o Rocco ha risposto a dovere? Il Rocco questo che sarà pieno nella capienza che potrà sostenere, sì è vero, si è messa così proprio per il discorso di essere prima e seconda, in più sono due regionali e quindi l'interesse e la bellezza di questa gara è salito molto. Il pubblico si aspetta una trestina grintosa, una trestina volenterosa, lei vuole che sia così sin dall'inizio la sua squadra? Io lo voglio dal primo giorno del campionato perché secondo me quella è nel mio DNA e questo voglio che si trasmetta alla squadra, ci è riuscito spesso, qualche volta un po' meno, qualche volta sicuramente di più e domani credo che sia una componente fondamentale per battere una squadra che fuori casa ha perso zero volte e sta guidando il campionato con un margine importante quindi questa è la componente di base e poi ci saranno tutte le soluzioni tecniche e tattiche, i colpi dei giocatori che domani ce ne saranno diversi in campo che possono decidere la partita. Può essere anche la giocata risolvere la partita soprattutto se si pone come si spera una partita di alta qualità? Sì, l'idea è quella lì, ci sono i giocatori in grado di poterlo fare, a volte queste partite possono anche risultare bloccate e poi vengono sbloccate dalla palla inattiva dove loro sinceramente sono molto bravi ma è anche vero che l'andata noi abbiamo metto la gara su due situazioni di palla inattiva quindi alla fine qualcosa hai di più e qualcosa cedi nel punto dove magari sei più forte e succede così spesso quindi credo che questa qui è una gara che potrà essere risolta da una situazione del genere ma credo anche che ci siano giocatori in grado di fare il colpo da una parte e dall'altra. Grazie